alla domanda che abbiamo visto prima e questo invece rispetto alle tecnologie, alle soluzioni che verranno toccate oggi. E allora è interessante vedere che c'è un nucleo molto coeso qui al centro di persone che sono interessate per esempio al blu, al rosso e al nero, quindi al social network, all'idea generation tool.